Benvenuto su questo video. In questo video verrà trattato la teoria della memetica. Una disciplina che nei primi anni 80 del XX secolo sembrava muovere i primi passi con grande velocità ed altrettanta frammentazione dato che l'idea stessa alla base della memetica aveva attratto studiosi da una moltitudine di campi disciplinari diversi. Questa teoria interdisciplinare indaga i modelli evolutivi culturali dovuti al trasferimento di informazioni, conoscenze e preferenze culturali basati sul concetto di meme, cioè l'idea che il meccanismo di replica, mutazione e selezione si verifichi anche in ambito culturale. Con i meme, così come in biologia, tali effetti evolutivi sono dovuti ai geni. La memetica ipotizza che, analogamente ai modelli standard biologici che spiegano la somiglianza fra le generazioni con i geni, in quanto i geni fanno copie di se stessi, così si possono spiegare le eredità culturali, nelle società umane attraverso replicatori culturali chiamati memi. Tutto ciò che può essere definito cultura è certamente diverso dal patrimonio genetico, ma in comune con questo ha la capacità di trasmettersi da un individuo all'altro, anche se con modalità di trasmissione differenti, ma simili alla genetica e dall'evoluzionismo darwiniano. Il meme è definito come una unità culturale minima, custodita nella memoria individuale, che può essere imparata e trasmessa ad altri esseri umani. Esempi di meme possono essere un punto di vista, una superstizione, uno stereotipo, una moda, un proverbio, una ideologia politica, una religione, una citazione da un film, un comportamento relativo all'alimentazione, una canzone, una parola d'ordine, un'immagine, un libro, una tecnologia, ecc. I memi sono unità di informazione che influenzano, formano e trasformano le società umane e che vanno intesi in senso molto più generale ed ampio rispetto a quello attribuito oggi ai memi che si trovano su internet. Secondo la memetica, infatti, i meme che meglio sono accolti in una situazione o in un contesto socio-culturale, hanno le migliori chance di diffondersi e resistere nel tempo. La grande differenza con i geni è che i meme si diffondono per via culturale. Questa analogia con la genetica è stata utilizzata per la prima volta nel 1976 dal biologo evoluzionista Richard Dawkins, a cui si deve la nascita della memetica, un campo di studi che ha vissuto fortune alterne e che rientra ancora nel campo della protoscienza. Clinton Richard Dawkins nato a Nairobi, il 26 marzo 1941 è un etologo, biologo, divulgatore scientifico, saggista e attivista britannico, considerato uno dei maggiori esponenti contemporanei della corrente del neo-darwinismo nonché del nuovo ateismo. Dawkins è noto al grande pubblico per l'opera di divulgazione della sua visione dell'evoluzione, basata sulla nozione del egoismo del gene, esposta nel suo libro più noto, The Selfish Gene, Il gene egoista, pubblicato nel 1976. In questo libro, Dawkins usa il termine meme per descrivere un'unità di informazione che nel trasmettersi da un uomo all'altro dà luogo ad effetti per molti aspetti simili a quelli di un gene. Dato che l'individuo che porta con sé un meme può trasmetterlo a un'altra persona senza doversene per forza liberare, la trasmissione di informazione altro non è che una replicazione con cui viene creata una copia del meme nella memoria di qualcun altro. Il concetto di unità di informazione non era nuovo ed è lo stesso Dawkins a ricordare che era già stato utilizzato pochi anni prima da Ted Klock e nel lavoro di Luigi Luca Cavalli Sforza e Marcus Feldman. Il termine meme, inoltre, era stato usato già nel 1904, quando il biologo Simon Wolfgang scrisse, Daimneme, un trattato sulla memoria in cui il meme veniva descritto come unità di informazione per la trasmissione delle esperienze. A Dawkins spetta il merito di avere gettato alcune delle basi teoriche della neonata disciplina, la memetica. Nella teoria di Dawkins i memi sono molto simili ai geni ma la metafora genetica è da considerarsi limitata. I geni, infatti, si possono trasmettere da genitori a figli mentre i memi possono essere trasmessi tra due individui qualunque, rendendo la trasmissione molto più efficace come un'infezione in un'epidemia. Per Dawkins, limitazione è il modo in cui i memi possono replicarsi. Ma proprio come non tutti i geni possono replicarsi con successo, così nella diffusione dei memi, alcuni hanno più successo di altri, come analogamente avviene per la selezione naturale. In generale le qualità che i memi devono avere sono longevità, fecondità e fedeltà di copiatura. Mentre la longevità di una copia qualunque di un meme ha probabilmente un'importanza relativa, come per i geni, la fecondità è molto più importante della longevità di copie particolari, la sua diffusione dipenderà da quanto sarà accettato dalla popolazione che lo ospita. Per quanto riguarda la fedeltà del processo di copia, lo stesso Dawkins ammette di muoversi su un terreno non molto solido, in quanto sembra che questa qualità non sia posseduta dai memi. Infatti i memi vengono trasmessi in forma alterata, qualità alquanto diversa dai loro corrispettivi biologici, cioè i geni. A questo problema Dawkins rimedia teorizzando che l'impatto dei memi non è determinato dal singolo meme, ma dall'insieme che questi hanno sull'ambiente culturale, ovvero dall'essenza del messaggio che viene trasmesso. I geni inoltre impiegano una generazione per compiere il trasferimento. Ai memi, invece, sono sufficienti anche pochi istanti. Dall'altra parte, però, la fedeltà delle copie dei memi è ben più bassa. È possibile che un racconto che si diffonde da persona a persona risulti alla lunga differente rispetto all'originale. Si tratta di una caratteristica che rende molto difficile analizzare e delimitare il campo d'azione di un meme. I memi mutano e persistono nella memoria degli individui. Al pari dell'evoluzione genetica, anche l'evoluzione memetica non può avvenire senza mutazioni. La mutazione produce varianti, ma solo le più adatte si replicano. Esse diventano più comuni e aumentano la loro capacità di replicarsi ulteriormente. Ad esempio, è probabile che siano state mutazioni a far evolvere culturalmente primitivi gruppi di sillabe nell'ampia gamma di lingue e dialetti attualmente esistenti, similmente anche per l'ampia gamma di significati simbolici all'interno di ogni lingua. Ulteriori mutazioni del linguaggio sono la scrittura, l'alfabeto brai, la lingua dei segni, ecc. La memetica ha proposto dei modelli per analizzare la diffusione dei memi, dando il via a un controverso dialogo tra la cultura umanistica e scientifica. La memetica applica concetti, mutuati dalla teoria dell'evoluzione, alla nascita e dallo sviluppo della cultura umana. Essa cerca di spiegare l'evoluzione di entità in materiali intersoggettive usando modelli matematici. La memetica deve essere distinta dalla sociobiologia. Nella sociobiologia le entità che si evolvono sono i geni, mentre nella memetica sono i memi. La sociobiologia studia le basi biologiche dei comportamenti umani, mentre la memetica considera gli esseri umani non solo come prodotto della loro evoluzione biologica, ma anche della loro evoluzione culturale. Nel libro Il gene egoista, Richard Dawkins deriva il concetto di meme dall'ambito di una visione biologico-evoluzionistica dell'umanità. L'ipotesi di Dawkins è nata in ambito genetico, ricalcando l'approccio della genetica moderna, neo-darwinista, basata sull'evoluzione della vita per ereditarietà, mutazione e selezione del più adatto, ed ha avuto buona fortuna, soprattutto mediatica, nel mondo scientifico non specializzato in studi sulla cultura. Tuttavia il concetto di meme è stato accolto abbastanza freddamente nelle scienze che si occupano specificamente della cultura e della sua trasmissione e modificazione, quali le scienze sociali, antropologiche, folkloristiche, politiche ecc. Nel suo libro Il gene egoista, l'etologo Richard Dawkins ha introdotto il termine meme per descrivere una unità base dell'evoluzione culturale umana analoga al gene, unità base dell'evoluzione biologica, in base all'idea che il meccanismo di replica, mutazione e selezione si verifichi anche in ambito culturale. Così come in biologia, la presenza di questi elementi culturali detti memi porta all'emergere spontaneo di effetti evolutivi, anche se questi effetti si manifestano in modo diverso rispetto a quelli biologici. Nel libro, Dawkins descrive il meme come una unità di informazione residente nel cervello. Si tratta di uno schema che può influenzare l'ambiente in cui si trova, attraverso l'azione degli uomini che lo portano con sé e si può propagare attraverso la trasmissione culturale. Questa definizione ha creato un grande dibattito tra sociologi, biologi e scienziati di altre discipline, perché Dawkins non ha dato una spiegazione sufficiente di come la replica di unità di informazione nel cervello controlli il comportamento umano e, alla fine, la cultura. A causa di ciò, il termine «unità di informazione» è stato definito in molti modi diversi, ed è ancora dibattuto il valore della memetica come disciplina scientifica. Secondo Dawkins le culture possono evolversi in maniera analoga a come si evolvono le popolazioni e gli organismi viventi. Molte delle idee che passano da una generazione alla successiva possono aumentare o diminuire le possibilità di sopravvivenza della generazione che le riceve e che a sua volta potrà ritrasmetterle. Ad esempio, più culture possono sviluppare un proprio progetto e un proprio metodo per realizzare un utensile, ma quella che avrà sviluppato i metodi più efficaci avrà più probabilità di prosperare e svilupparsi sulle altre. Col passare del tempo una sempre maggior parte della popolazione adotterà quindi tali metodi. Il progetto dell'utensile agisce quindi in modo simile a come agisce un gene biologico appartenente a certe popolazioni e non ad altre, guidando con la propria presenza o assenza il futuro di ogni cultura. Nella storia abbiamo moltissimi esempi, basta vedere il caso dello sviluppo delle armi o degli strumenti per l'agricoltura. Il dibattito è stato ravvivato in tempi più recenti dalla pubblicazione del libro di Susan Blackmore La macchina dei memi. Perché i geni non bastano nel 1999 in cui si introduce il concetto generalizzato di replicatore, liberando così l'analogia con la genetica da vincoli eccessivi. Una caratteristica fondamentale del meme è quella di venire diffuso per imitazione. Quando l'imitazione fece la sua comparsa nell'evoluzione umana, si rivelò essere un buon sistema per aumentare le possibilità di ogni individuo di riprodursi geneticamente. Forse una selezione sessuale dei migliori imitatori fornì successivamente una spinta evoluzionistica verso i cervelli meglio capaci di imitare. In questo contesto, imitare significa sostanzialmente importare informazione dall'ambiente nel proprio cervello tramite gli organi di senso. Dal momento che i memi si propagano per imitazione da un individuo ad un altro, essi non possono esistere senza cervelli sufficientemente sviluppati da discernere gli elementi fondamentali del comportamento da copiare, cosa copiare e perché, e da capirne i potenziali vantaggi. I memi, o comportamenti acquisiti e propagati per imitazione, sono stati osservati solo in poche specie sulla terra, tra cui gli ominidi, i delfini e gli uccelli che apprendono il canto dai loro genitori. È controversa l'idea che possano esistere memi meno complessi in altre specie, ad esempio comportamenti imitativi indotti artificialmente nei cefalopodi e nei ratti. Questi comportamenti imitativi sono stati fondamentali per i primati nostri antenati che quando acquisirono una coscienza estesa, ebbero un vantaggio crescente rispetto alle creature incapaci di associare e memorizzare informazioni con la stessa destrezza. I primati potevano creare semplici ma utili arnesi per procurarsi il cibo o elaborare metodi per sfuggire alle strategie di caccia dei predatori. Progressivamente svilupparono la capacità di comunicare e acquisire efficacemente tali informazioni, spiegare, osservare e imitare come modellare la selce ed accendere un fuoco, costruire trappole, elaborare strategie di sopravvivenza, fino a concetti più astratti come la religione o l'organizzazione sociale. L'associazione memetica è la scoperta che i memi si raggruppano. Ad esempio, il meme blue jeans include i memi cerniera lampo, tintura blu, doppie cuciture. La deriva memetica è il processo attraverso cui un'idea o un meme cambia mentre viene trasferito da una persona a un'altra. Pochissimi memi mostrano un'elevata inerzia memetica, che è la caratteristica di un meme di venire espresso nello stesso modo e di avere lo stesso impatto a prescindere dalle persone che lo stanno trasmettendo e ricevendo. La deriva memetica può aumentare quando il meme è trasmesso tramite una comunicazione difficile. Invece l'inerzia memetica cresce, per esempio, quando la forma usata è quella dell'espressione in rima o artistica o utilizza accorgimenti mnemonici. Sia i geni sia i memi possono sopravvivere più a lungo del singolo organismo che li reca in sé. Un gene utile, ad esempio un gene per una robusta dentatura nei leoni, può rimanere inalterato nel corredo genetico per centinaia di migliaia di anni. Un meme utile può propagarsi da un individuo a un altro per tempi molto lunghi dopo la sua comparsa. A differenza dei geni, il cui successo è legato alla sua utilità per la sopravvivenza dell'organismo che lo reca in sé, il successo di un meme è legato a fattori più sottili quali la critica, la persuasione, la moda o la pressione del gruppo, che non sono stati ancora ampiamente indagati. Tra le tecniche con cui un meme si propaga si annoverano, 1. La dimostrazione che un'idea o una tecnica sono utili, ad esempio, un falegname mostra a un apprendista che due pezzi di legno si uniscono quando vengono messi insieme usando un chiodo e un martello, 2. L'identificazione di un problema che non ha soluzione, ad esempio, cosa succede se mai succede qualcosa, dopo la morte. Ed il proporne una soluzione, ad esempio, si va in paradiso o all'inferno. La soluzione non può essere dimostrata sbagliata ed è quindi sufficientemente adatta per una propagazione successiva, 3. La minaccia verso coloro che non diffondono un meme, ad esempio, non fare questo o andrai all'inferno, e la ricompensa verso coloro che lo diffondono, fai questo e andrai in paradiso, 4. Il richiedere che chi possiede un meme sia gentile col prossimo e dedichi molto tempo alla riflessione e al dialogo su di esso, ad esempio un prete che faccia poco altro oltre a predicare la propria religione. L'evoluzione non richiede solo l'ereditarietà e la selezione naturale, ma anche la mutazione ed anche i memi hanno questa proprietà. Le idee che vengono trasmesse possono subire modifiche che si accumulano nel tempo. Questi cambiamenti nel fenotipo, l'informazione nei cervelli o in altri sistemi di ritenzione, sono anch'essi trasmessi. In altre parole, a differenza dell'evoluzione genetica, i memi sono sia darwiniani sia lamarchiani. Si prenda, ad esempio, una leggenda o un mito, che spesso vengono abbelliti nel riraccontarli in modo che siano più memorabili e quindi più probabilmente raccontati di nuovo. Esempi analoghi più moderni possono essere le cosiddette, leggende metropolitane, o certi falsi messaggi che girano su internet. Ciò che contraddistingue un meme da altre idee che vengono trasmesse da una persona a un'altra è che la probabilità di un meme di venire trasmesso dipende da proprietà intrinseche del meme stesso, piuttosto che dalla natura delle persone, o delle memorie, coinvolte nella trasmissione. Ad esempio, la forma di un utensile si riflette sulla sua efficacia indipendentemente dalle abitudini delle diverse persone che lo usano. Miti e leggende forniscono spesso insegnamenti morali o danno risposte a domande fondamentali. Questo li rende più adatti a venire raccontati da persone aventi scopi molto diversi tra loro rispetto a storie simili ma prive di questi elementi. Il rapporto del meme nei confronti di altre teorie evolutive, ad esempio quelle che separano i fattori ecologici, sessuali, etici e morali e non riservano alla cultura, un ruolo separato o particolare, sembra quello di essere come una sorta di pretendente al trono, che cerca di spiegare queste idee più specifiche di evoluzione e di cultura, senza alcun modello da verificare. Questo, agli occhi di molti scienziati, riduce la cultura a uno tra i tanti elementi della vita umana. Nel 1981, i biologi Charlie Lunga, Loomsden ed Edward Osborne Wilson pubblicarono il libro Jeans, Mind, and Culture, The Co-Evolutionary Process, Geni, Mente e Cultura, il processo co-evolutivo, in cui presentano la teoria di una co-evoluzione di geni e cultura. Evidenziarono che le unità fondamentali della cultura devono corrispondere biologicamente a delle reti di neuroni che fungono da nodi della memoria semantica. Wilson successivamente adottò il termine, meme, come migliore nome possibile per definire tali unità fondamentali di eredità culturale e sviluppò il ruolo fondamentale dei memi nell'unificare le scienze naturali e le scienze sociali nel suo libro Consilience, The Unity of Knowledge, Consilienza, l'unità della conoscenza. Questo ha fatto emergere due correnti, quella degli esternalisti, secondo cui i memi sono artefatti o comportamenti osservabili e gli internalisti, che sostengono che i memi siano elementi di memoria conservati a livello neurale nell'organismo. La discussione in merito non si è mai conclusa. Nel 2002 Robert Aunger nel suo The Electric Meme, A New Theory of How We Think, The Electric Meme, una nuova teoria su come pensiamo, ha scritto che per il momento, nessuno ha ancora capito cosa sia, in sostanza, un meme. Sono passati diversi decenni ed il dibattito sulla legittimità, intesa nel senso più generale possibile, della memetica come scienza, ha fatto emergere tre diverse posizioni. Quella di coloro i quali negano ogni validità. Quella di chi invece ritiene che ci siano le caratteristiche per, nobilitare, a scienza il nuovo campo di studi ed infine, quella di chi si limita ad aspettare ulteriori sviluppi. Per il momento dal dibattito, sulle e dall'interno della memetica, si è assistito alla nascita della scienza che studia i sistemi complessi, sono stati fatti grandi passi avanti nella linguistica cognitiva e le iniziative di ricerca non sono mancate, soprattutto grazie all'esplosione dell'uso dei media digitali ed in particolare, di Internet. In particolare si evidenzia l'impatto sociale che si è avuto con la diffusione dei memi tramite Internet. Nel 2013 Richard Dawkins ha definito i memi di Internet come quelli che vengono deliberatamente modificati dalla creatività umana, essendo quindi diversi sia dai geni biologici sia dai memi pre-Internet, i quali sarebbero soggetti a mutazioni casuali e si diffonderebbero tramite un procedimento analogo alla selezione naturale. Egli sostiene quindi che sia avvenuto un cambio di rotta, poiché l'idea di meme si è modificata ed evoluta in una nuova direzione. Inoltre, i memi di Internet godono di un'altra proprietà di cui i memi normali non godono, essi lasciano un'impronta nei media attraverso i quali si propagano, il che li rende tracciabili e analizzabili. Un motore di ricerca può essere uno strumento utile, ancorché imperfetto, per misurare la diffusione memetica di una frase. Con l'avvento dei social media, poi, l'analisi della diffusione e dell'impatto di un contenuto ha guadagnato possibilità che fino a qualche anno fa si poteva solo immaginare. È il caso della diffusione dei meme di Internet, di cui si studiano le linee di discendenza e le loro modificazioni. I meme su Internet mutano e si evolvono lasciando una traccia di dati che può essere studiata con un rigore metodologico senza precedenti, come nel caso di una delle prime ricerche sulla diffusione di informazioni via Facebook o dei numerosi studi sul tipo di reazione emotiva, sentiment, suscitata da un contenuto su Twitter. Oggi analisti e scienziati sono in grado di tracciare la diffusione di idee e comportamenti in tempo reale con opportuni algoritmi e di caratterizzare la composizione delle strutture semantiche che modellano la maniera in cui vari gruppi sociali pensano su specifici argomenti. La memetica oggi vuole cancellare le accuse di volere, scientizzare, i flussi culturali umani. Dopo tutti questi decenni si sa molto di più sui meme e la memetica gode di un rinnovato interesse scientifico, pone nuove domande, quali, se un'umanità sempre più connessa, rischia l'omologazione culturale. Il problema della tirannia dei meme era stata già paventato da Dawkins, il quale però suggeriva anche la soluzione, e cioè in caso di omologazione, sostiene Dawkins, l'essere umano può ribellarsi. Noi agiamo tramite la nostra coscienza e saremo comunque liberi di opporci ad eventuali tirannie memetiche. Questo è tutto. Grazie per lei vostra attenzione e dalla prossima.